Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Qui ci troviamo nell'aula scolastica del piccolo seminario, l'aula dove veniva il giovane Pio da Pietrelcina con i fratini quando lui ebbe questo primo incarico come direttore spirituale di questi ragazzi come arrivò qui a San Giovanni Rotondo. Oggi 7 ottobre nel 1946 fu una giornata triste per Padre Pio perché grazio il papà proprio a qualche metro, potremmo dire proprio così centinaio di metri dal convento nella casa Maria Pail Spirò. Morì Grazio, Grazio Forgione, era nato il 22 ottobre del 1860, Pietrelcina si sposò l'8 giugno del 1881 con Maria Giuseppa Denunzio da cui ebbe ben otto figli. La vita di questo uomo fu densa di lavoro, sofferenze e molti sacrifici, non ultimo quello di emigrare per ben due volte negli Stati Uniti per realizzare il desiderio del figlio in vista del suo sacerdozio. Un uomo forte, sereno, il suo quotidiano lo passò tra la dura vita dei campi e le gioie, semplici ma allegri della famiglia. Dalla mattina alla sera Grazio lavorava il terreno che aveva di proprietà a Piana Romana, cercando sempre di dare al crescente nucleo familiare il necessario. E poi anche lui, come mamma Peppa, volle così terminare la sua vita terrena qui a San Giovanni Rotondo e fu ospite dell'americana Maria Pailo. Ogni giorno veniva qui in convento per partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta da suo figlio, si intratteneva con i frati, era diventato il nonno della fraternità dei frati di San Giovanni Rotondo. E quel giorno morì e di questo ultimo periodo l'archivio, il nostro archivio, l'archivio della voce di Padre Pio, conserva due scatti straordinari che vedono il figlio che imbocca il papà che è quasi senza forze nel letto dove morì e dove morì qualche anno prima anche mamma Peppa. E al cimitero, al cimitero di San Giovanni Rotondo fu il giorno dopo collocato proprio accanto alla moglie. È una lapide con una bella scritta che fa capire il senso e l'importanza di questi due genitori. C'è scritto, dal tuo ceppo sorse la pianta che leva il cielo e apre sino ai confini della terra i rami carichi di frutti, accogliendo sotto l'ombra benedetta i sofferenti tutti del corpo e dell'anima.